Ciao, dove stiamo andando? A Cartoon Mix. E poi come sarà il viaggio? Non lo so. Sei contenta di andarcene? Sì. Cosa pensi di trovare di bello? Un esperto sei tu. L'esperto sono io. Ma tu per cosa ci vai? Io per vedere la Yamato Cup. Cos'è la Yamato Cup? Un contest per cui il vincitore andrà in Brasile come rappresentante cosplayer italiano nel mondo. C'è una roba importante. Credo di sì. Quindi ci sarà la creme della creme dei cosplayer italiani? Non lo so, può essere. Cioè vado a vedere. Quindi è tutto finanziato dalla Yamato Video? A me lo chiedi. Cioè la Yamato Cup mi sa che sì. Lo so, sì. Ma riusciranno a pagare il viaggio? Poi contatteranno i vincitori e diranno ah guardi non abbiamo più soldi per fare il viaggio e diamo un buono per quattro di Udi Sailor Moon. Spero di no. Sì, veramente. Quindi sei contenta di andare? Sì. Sarà un evento interessante. Penso che se la Yamato facesse una cosa del genere perderete tutta la credibilità, tutti i clienti. Che già sappiamo tutti che sono veramente, possono puntare sulle dite d'una mano. Sì, però comunque non è altro che mi interessa fare una cosa del genere, credo. No, ovviamente no. Però non si sa mai magari chi vince in realtà, lavora con loro. Quindi già in tasca il biglietto e potrebbe essere una roba truccata. Ah, può essere. Va bene. Comunque ci risentiamo a ritorno da Cartoon Mix per la seconda parte. Per l'aggiornamento. Per l'aggiornamento. Saluto a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Saluto anch'io. Salutemi insieme. Sì, insieme sono la tua faccia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ho filmato da tutta l'altra parte. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Allora, per stoppare, come cazzo si farà così? Ciao.